Mary Jane ASMR Ciao ragazzi, bentornati Come state? Tutto bene? Spero di sì Allora, io ho portato sul mio canale un po' di tempo fa di leggente un video bug searching dove, appunto, faccio finta di cercare biducchietti ferrumetti nel fluffy mink Devo dire che questo video è piaciuto veramente un sacco tant'è che me lo avete richiesto E piace anche a me naturalmente Quindi oggi andremo di nuovo alla ricerca dei vermetti Buon rilassamento, cucciolotti Un saluto Un saluto Un saluto e 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 ecco questi vengono fuori belli e 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 ok 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 adesso proviamo quest'altra pinza un po' più piccola che cosa? in maniera più mirata è qui qui carica carica carico carico ticcol, ticcol, ticcol off... grazie a tutti lugga, lugga, lugga lugga, lugga, lugga lugga lugga, lugga lugga, 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 lugga lugga, lugga bene, li abbiamo rimossi tutti, tutti, tutti tutti, spero di cuore vi siate rilassati ragazzi, ci rivediamo come sempre al prossimo, prossimo, prossimo video, ciao